Galoppa il 15, Nippon Griff, Galoppa l'1, Nina Moric, dal centro, tenta di stagliarsi né a gara né confronti di Nelena, parte la grande Nadia Cass, e Nadia Cass in poche battute al comando. 13,1 per la targata Cass, rinviene Nasdaq, poi non lo so, avalia completamente la piegata, e si presentano davanti alle tribune. 400, in 29, passa Nasdaq, è partita bene Ninfea, è partita la grande Nightmare Dete e anche il 16 di Napoleone. Si va dopo 600, 44, e cavalli che affrontano la piegata, Nasdaq avvicinata da Ninfea, Nadia Cass, non lo so chi ha anticipato Nightmare Dete, poi Napoleone, mezzo miglio in 59,9, l'andatura è brillante, non ci sono variazioni sostanziali, Nasdaq, Nadia, Niagara, Ninfea, non lo so, Nightmare che si affaccia, 14,8 il chilometro e viene via VPI con il suo targato Ete e punta in avanti. Nadia Cass anticipa l'idea di D'Artagnan, e Manini Dolci con la sua Nadia va sul leader, e sta già passando, 14,7, 2,29 e mezzo, tre quarti di miglio, scappa via Nadia Cass, ma si libera bene Niagara. La mia gara, retta d'arrivo, Nadia Cass al comando, viene via la mia gara, la mia gara va su Nadia Cass e Gennaro De Vincenzo. Sta passando, viene via la grande Nayera, numero 11, Nightmare Dete, anticipato, i cavalli sono in zona traguardo, ed è il numero 11, 11, di Nayera con Giorginio, che batte D'Artagnan e il suo Nightmare Dete. Andiamo a rivedere le immagini, due minuti e un po' di speech, uno 15,1, 22,84 euro al totalizzatore. Bella vittoria di Nayera, che proprio sul traguardo pizzica un Nightmare Dete, che aveva costruito la grande. Intanto c'è il reclamo della giuria, attenzione, poi c'è il 5 di Niagara, poi c'è Nadia Cass e poi le altre. Comunque, ripeto, dovrebbe aver vinto il numero 11 Nayera, proprio sul palo, battezza Nightmare Dete, ma è tutto in discussione. Ecco ancora le immagini, poiché la giuria ha suonato la sirena e quindi quando c'è la sirena è tutto da discutere. E' tutto che viene in discussione. Non c'è problema per il primo piano di Nayera, ma, ripeto, attendiamo. La giuria è il giudice d'arrivo, poi c'è Niagara, vedete, Nadia Cass, ancora andiamo un po' più avanti. E per il quinto, lungo i birilli, vedete, è Nasdaq. Dato appunto della sirena della giuria, tutto è condizionato dall'esito del replay che la giuria vi signorà e darà l'ordine d'arrivo ufficiale.